Il 2016 è un anno di svolta, aumenterà la crescita, diminuerà il debito, a dirlo con parole certe, è il ministro del Tesoro, Piercarlo Padoan. 2016 un anno di svolta, ne è certo il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che ha toccato i temi di più stretta attualità nel suo intervento a Monza ad un incontro confronto con il numero uno dell'industria lombarda, Gianfellice Rocca, su impresa, occupazione e fisco. Abbiamo bisogno di un fisco più trasparente, più semplice e un colloquio che consente di gestire le difficoltà in una forma tale che migliori la relazione col fisco. La questione tasse è capitolo cruciale per il mondo delle imprese. È chiaro che la questione delle tasse è importante nei due aspetti, il primo è abbattiamo le tasse e sono totalmente d'accordo, ricordatevi quello che ho detto, per abbattere le tasse bisogna abbatterle e mantenere le basse e quindi generare l'aspettativa che non si debbano rialzare dopo, quindi finanziare e coprire, come si dice, l'abbattimento delle tasse. Crescita più forte nel 2016, occupazione in aumento e diminuzione del debito, queste le previsioni di Padoan. Sulle banche ha ribadito che il nostro sistema è solido nonostante i problemi che sta attraversando ed ha annunciato... Autoriforma, ci tengo a sottolineare questa parola, l'autoriforma delle banche di credito cooperativo che andrà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, doveva andarci l'altro ieri, potrei rassicurare tutti per dire che non ci sono problemi. Tra i temi centrali del dibattito organizzato dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, guidata dall'ex ministro Maurizio Lupi, quello della ripresa che passa anche attraverso un rinnovato rapporto tra banche e imprese. Dobbiamo trovare un dialogo tra imprese e banche che sia un dialogo più moderno di quello che è stato nel passato.